Musica Anziano massacrato in casa aperto al suo assassino, l'81enne Mario Palma forse conosceva chi l'ha ucciso con una serie di coltellate nell'abitazione di fuori grotta a Napoli, la vittima raggiunta al collo e al volto, la porta d'ingresso non è stata forzata e in casa non manca nulla Fitto a Napoli rilancio a ZES Unica, un'opportunità, il ministro ospite dell'Unione Industriali rispinge le accuse dei comuni sui tagli ai progetti inseriti nel PNRR Saranno i fatti a parlare, duro il commento degli imprenditori sui fondi europei, le regioni hanno fallito Quarto casa occupata, ridate le chiavi all'85enne, stamattina il blitz dei vigili urbani nelle case popolari di Via De Gasperi per restituire l'abitazione all'anziana Ai microfoni di 8 Channel, le lacrime e la rabbia della donna, spero che paghino per la violenza che mi hanno fatto La famiglia di Gerardina vogliamo la verità, settimana decisiva per chiarire le cause della morte della 46enne di Ariano Il legale della famiglia, giusto fare tutti gli accertamenti per arrivare alla verità Intanto l'avvocato dei titolari della pizzeria chiede l'archiviazione Lotta ad usura ed estorsione, le priorità del questore, si è insediato questa mattina il nuovo responsabile della questura Giovanni Nunzio Trabunella, attenzione alla prevenzione dei reati ai giovani L'invito fermo a denunciare fenomeni come usura ed estorsione Costiera sotto sequestro, la strada della morte, nessuna svolta per il collegamento tra Ravello e Castiglione La procura di Salerno ha detto no alla riapertura dell'arteria sollecitata dal comune Ma non c'è pace per i trasporti, SOS per le fermate sita soppresse Buonasera, questi erano i nostri titoli, ben ritrovati con l'informazione del canale 8 Channel TV Andiamo subito a Napoli per l'apertura, parliamo dell'omicidio di fuori grotta L'81enne trovato in una pozza di sangue nella sua abitazione, forse conosceva il suo assassino, vediamo perché La porta d'ingresso dell'abitazione non è stata forzata e in casa non manca nulla Si fa strada dunque l'ipotesi che Mario Palma, l'81enne ha coltellato ripetutamente nella sua abitazione di fuori grotta a Napoli Conoscesse il suo assassino Ieri pomeriggio qualcuno ha bussato alla sua porta e lui ha aperto e lo ha fatto entrare Le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura procedono a 360 gradi, senza escludere alcuna pista L'anziano è stato trovato in un lago di sangue, a dare le allarme è stata la vicina di casa che ha trovato tracce di sangue sul pianerottolo, proprio di fronte al luogo dove abitava l'uomo Ha chiamato prima i familiari e poi i carabinieri La donna è il numero del fratello di Mario che vive in provincia di Avellino La corsa fino a Napoli ha consentito la macabra scoperta Poi sono giunti la scientifica e il medico legale per i rilievi e per accertare l'accaduto Un'aggressione feroce e violenta sulla quale gli inquirenti ora cercano di far luce Non si tralascia alcuna ipotesi da quelle che portano a un tentativo di furto al tentativo di una truffa finita male, sfociata nel sangue I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ora si attende l'esito dell'autopsia La salma sarà sottoposta all'esame autoptico che rivelerà con precisione quante sono state le coltellate inferte La ZES è una grande opportunità per il sud, lo ha detto Raffaele Fitto, ospite dell'Unione degli Industriali di Napoli Vediamo Mancano poche settimane e poi tutto il mezzogiorno sarà un'unica zona economica speciale Il provvedimento varato dal governo è pronto ad entrare in vigore Di questo ed altro se ne è discusso con il ministro Raffaele Fitto, ospite dell'Unione Industriale di Napoli Io penso che sia uno strumento e una grande opportunità per il mezzogiorno d'Italia L'abbiamo condiviso e discusso con la Commissione Europea preventivamente L'abbiamo discusso anche con tutti gli interlocutori istituzionali Vorrei ricordare che questo decreto ha il parere favorevole della conferenza unificata Con i comuni, con le province, con quasi tutte le regioni abbiamo trovato un punto di sintesi L'esponente del governo ha anche risposto così alle preoccupazioni dei sindaci A proposito dei tagli ai progetti finanziati dal piano di ripresa e resilienza Le opere vanno avanti, quando ci sarà l'approvazione della revisione Contemporaneamente ci sarà un'altra copertura finanziaria Quindi saranno i fatti a parlare, il resto mi sembra che spesso diventi una polemica Della quale non abbiamo bisogno Gli imprenditori hanno rilanciato, l'Italia riparte se si rimette in moto il Sud Ma finora le tante risorse messe a disposizione non sono state impiegate a dovere Veniamo però da molti decenni in cui la politica delle regioni sui fondi di coesione è stata assolutamente fallimentare Se stiamo registrando un ritardo così importante, nonostante risorse miliardarie e spese investite nel mezzogiorno male E senza risultati apprezzabili è proprio perché la politica che fino ad oggi abbiamo seguito non funziona E adesso andiamo a quarto per il blitz dei vigili urbani nelle case popolari occupate È stata fatta proprio una cosa che io non... non è disumano C'è una cosa proprio veramente disumano Allora se esiste il Dio la devono pagare, la devono pagare La signora Maria Pollastro ha 84 anni, seduta al centro di quella che fino a due settimane fa era la sua sala da pranzo Nella casa in cui viveva da 40 anni non riesce a farsi una ragione di quanto è accaduto Siamo nelle palazzine popolari di Via De Gasperi, a quarto Dove una settimana fa è stata occupata abusivamente anche la casa di un altro inquilino Che aveva trovato la porta sbarrata di rientro dal lavoro Qui al civico 68 l'occupazione è avvenuta mentre la donna era temporaneamente a casa di sua figlia per motivi di salute Stamane il blitz della polizia municipale insieme al sindaco Antonio Sabino Che ha restituito le chiavi alla legittima assegnataria Al suo fianco il deputato dei Verdi Francesco Borrelli che ha sollevato il caso e ora chiede punizioni esemplari Questi hanno fatto una cosa nei confronti della persona malata e anziana Significa che sono dei farabutti e io ho chiesto con tutta la mia forza Abbiamo fatto una battaglia per farla liberare subito Stiamo ragionando col comune e eventualmente anche con la regione per vedere se ci sta un fondo Per poter dare una mano nel rifacimento almeno di una condizione di vivibilità di questo appartamento La devono pagare perché chi fa una cosa del genere non è una persona degna di stare in questa società Poca la solidarietà dei vicini di casa In un quartiere dove regna la legge del più forte spesso ci si fa giustizia da soli L'invasione di una casa viene tollerata Per questo l'amministrazione comunale ha voluto lanciare un segnale Questo è un segnale importante per la nostra comunità ma anche per tante altre comunità che vivono situazioni di questo tipo Perché seguire le regole ed essere fermi significa aver riportato fiducia nelle istituzioni E fiducia in un modo di fare politica che è completamente diverso rispetto al passato Luce di videomapping ed eventi si mette in moto la macchina delle luminarie a Napoli Luminarie per 1.800.000 euro di fondi a Napoli è pronta la mappa delle strade Con una distribuzione tra municipalità per non isolare nessuna zona della città 300.000 euro di fondi saranno dedicati al videomapping che prevede la proiezione di scenari natalizi su grandi edifici storici di Napoli Il sindaco Manfredi ha confermato anche che potrà esserci investimento da parte dei privati intenzionati a decorare le strade Sono state definite le strade da tutte le municipalità e si stanno facendo gli affidamenti per passare al montaggio Però noi abbiamo dato un plafond a ogni municipalità per fare condizioni paritarie Laddove non ce la facciamo con le risorse pubbliche in alcuni spazi, su alcune strade ci sarà il contributo dei privati Slitta l'apertura del cantiere di Palazzo Fuga e anche altri lavori per non creare disagio alla mobilità Che sarà ulteriormente sotto sforzo nei giorni di festa Abbiamo tantissimi cantieri, noi cercheremo di aprire i cantieri tutti dopo il periodo natalizio Avremo da albergo dei poveri, villa comunale, galleria, partono i lavori in alcune strade Abbiamo tantissimi cantieri in partenza e questo è un motivo di soddisfazione Perché sono tutte le risorse, fondi europei, PNRR, avevamo una roadmap molto precisa di scadere che stiamo rispettando Intanto restiamo a Napoli perché pensate è una delle mete più amate dai croceristi E i dati superano anche quelli che fanno rilevazione rispetto ai dati pre-pandemia La carta vincente di Napoli, i napoletani, non a dubbi l'amministratore delegato del terminal Napoli Tommaso Cognolato che ha rilanciato lo straordinario risultato ottenuto dal settore all'incontro crociera Il successo del 2023 promosso alla stazione marittima I dati delle crociere sono esplosi quest'anno finalmente Napoli risulta essere il secondo porto a livello italiano Abbiamo raggiunto 1.650.000 passeggeri che è un record storico Solo per darvi un paragone, nel 2019 i passeggeri erano 1.340.000 Quindi è un incremento notevole e ci aspettiamo un 2024 ancora positivo e ancora in crescita Un momento importantissimo in cui si devono contemperare gli interessi di un intero territorio Con la tutela dell'ambiente e della sicurezza, aggiunto Andrea Annunziata Registriamo una richiesta di approdi insperati Pensavamo di recuperare il pre-pandemia Invece addirittura oltre qualsiasi aspettativa Un anno straordinario a livello nazionale ma in modo particolare per il porto di Napoli Questo scalo abbiamo superato le 400.000 presente, oltre 83 scali Ma il dato che mi piace sottolineare più tutti è la presenza a 12 mesi all'anno Perché credo che questo sia uno degli straordinari valori aggiunti che l'industria croceristica da dare a questa città Si è arrivati ad 1.700.000 viaggiatori un significativo indotto economico in città Ha detto il sindaco Gaetano Manfredi sottolineando che il lavoro per valorizzare e potenziare i servizi Già avviato dall'amministrazione è il modo migliore per incentivare i croceristi a tornare Adesso parliamo del giallo della morte di Gerardina Sarà una settimana decisiva per conoscere la verità sulla morte della 46enne di Ariano Irpino E intanto i familiari dicono che è un nostro diritto conoscere la verità Sarà una settimana decisiva per la triste vicenda della morte di Gerardina Corsano La 45enne è deceduta in circostanze sospette dopo aver avvertito un malore all'ospedale di Ariano Irpino La procura ha avviato ogni tipo di accertamento Sabato è arrivata la notizia in via ufficiale dell'assenza di botulino sugli alimenti sequestrati nella pizzeria Dove i coniugi avevano mangiato il sabato prima di sentirsi male e in casa della coppia Quindi esclusa la pista dell'intossicazione alimentare si segue quella dell'avvelenamento Ma da cosa? La procura sta cercando di capire come Gerardina sia entrata in contatto con sostanze o alimenti velenosi L'attenzione del magistrato inquirente si è soffermata anche sul lavoro dei coniugi Angelo Meninno è titolare di un'azienda agricola che lavora cereali È possibile che Gerardina che lavora nella stessa azienda sia venuto in contatto in maniera involontaria Con prodotti chimici, fitofarmaci utilizzati per la lavorazione dei cereali La procura è alla ricerca della verità sulla morte della donna Ne ha convinto anche l'avvocato della famiglia Gerardo Giorgione Va veramente verificato tutto, ogni passaggio, ogni cosa Qui si è persa la vita una donna di 46 anni Quindi su questo è l'obiettivo L'obiettivo dice come mai, cosa è successo Come si è venuto a contatto con eventuali agenti esterni che hanno potuto condurre la morte Intanto l'avvocato dei titolari del ristorante dove hanno cenato i coniugi prima di sentirsi male Guerino Gazzella ha chiesto l'archiviazione della loro posizione Ci rendiamo conto che di fronte ad una morte e lesioni così gravi c'è bisogno del tempo I nostri clienti sono sul filo di corda perché c'è sempre un'indagine in corso È morta una persona ma abbiamo fiducia nella giustizia Ci spostiamo nel sagno per l'insediamento del questore Giovanni Trabunella Che ha subito fissato i nuovi obiettivi invitando le vittime di usura a denunciare sempre 60 anni di origini palermitane Il dottore Giovanni Trabunella ha avvarcato l'ingresso degli uffici di Via De Caro Da questore di Benevento accolto da funzionari e poliziotti Dopo un primo briefing con i funzionari il questore ha incontrato la stampa Attraverso la quale ha voluto salutare i cittadini del Sannio Ma mi aspetto di trovare una realtà sana perché le province del Sannio Le province erpine sono meno interessate da grossi fenomeni criminali È chiaro che noi abbiamo una criminalità di importazione che dobbiamo cercare di fronteggiare È chiaro che non esistono i solo felici Il neo questore della provincia di Benevento ha parlato anche di usure e distorsione Lanciando un invito ai cittadini Sono reati difficili da contrastare e che purtroppo la crisi economica attuale purtroppo favorisce E l'invito ovviamente è quello sempre di rivolgersi alle forze di polizia Prevenzione e attenzione ai giovani, la parola d'ordine Dobbiamo cercare di operare un intelligente controllo del territorio Cogliere ogni segnale, anche piccolo Ogni situazione va valutata con attenzione Resta ancora sotto sequestro la strada della morte Quella che conduce Ravello e Costiglione Le collega, la procura di Salerno ha detto no alla riapertura Ma intanto non c'è pace per i trasporti in Cossiera Malfitana La strada che collega Ravello al bivio di Castiglione resta sequestrata È quanto deciso dalla procura di Salerno Che ha respinto l'istanza di dissequestro dell'arteria Teatro lo scorso mese di maggio di un tragico incidente Nel quale perse la vita il giovane Nicola Fusco di Agerola Notizia accolta con disappunto dal sindaco della città della musica Che si era fatto portavoce delle istanze dei residenti Penalizzati dalle restrizioni che danneggiano anche i turisti Le indagini della procura sono ancora in corso Dunque restano i sigilli Ma sono tante le questioni aperte sul fronte viabilità in Cossiera Malfitana Dove è polemica per la soppressione delle fermate sita Appiedati, residenti e turisti È un'esigenza veramente molto molto importante Noi non possiamo lasciare appiede a nessuno in Cossiera Malfitana E se in questi giorni abbiamo lasciato appiede tutti i cittadini Nella costiera Malfitana che vi renderò recso urbano Grazie alla mediazione della prefettura di Salerno Anas e Sita Sud sono al lavoro per trovare una soluzione Ad un problema che riguarda tutto il territorio della costiera Malfitana Abbiamo ascoltato appunto le richieste dei sindaci Perché naturalmente loro hanno rappresentato una situazione di forte disagio Per le rispettive comunità Si è deciso che Anas e Sita Sud dialogheranno tra di loro Per verificare la migliore soluzione per contemperare le esigenze di sicurezza Che sono state ovviamente alla base dell'iniziativa assunta da Anas Con le esigenze naturalmente del servizio da garantire alle rispettive comunità Verso le elezioni comunali ad Avellino La sinistra italiana apre al campo largo Mentre il Movimento 5 Stelle insiste su un candidato civico Per un'altra Irpinia, per un'altra Avellino È il titolo dell'iniziativa promossa dalla Federazione Irpina di Sinistra Italiana Al circolo della stampa di Avellino Aperta alla partecipazione delle forze politiche di centro-sinistra Che compongono il cosiddetto campo largo È stata l'occasione per riaffermare le priorità programmatiche Che dovranno guidare alla scelta della figura apicale del candidato sindaco Le nostre priorità sono quelle dell'ambiente Dell'attenzione alle questioni sociali Completamente dimenticate e rimosse da questa amministrazione Sono quelle dell'autonomia ad esempio rispetto alla regione Sono i temi della questione morale È chiaro che occorre dal mio punto di vista Un candidato o una candidata che abbia anche una forza di suggestione politica Per contrapporsi al sindaco uscente Molti ancora i nodi da sciogliere tra le forze politiche della coalizione Secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi La scelta dovrà ricadere su un candidato civico e super partes La nostra scelta sarebbe quella di individuare una personalità della società civile Perché siamo consapevoli che in un campo largo Dove ci sono molteplici forze politiche Caratterizzate anche da un punto di vista ideologico Una situazione che potrebbe giovelare l'accordo Su un programma condiviso per la città di Avellino Possa essere interpretato da un componente della società civile Siamo i primi in campagna Il sindaco di Benevento Clemente Mastella Commenta con ottimismo la classifica che incorona il capoluogo Sannita Per la qualità della vita Ma non si accontenta, vediamo perché Benevento scala ben sei posizioni nella classifica sulla qualità della vita di Italia oggi Salendo dall'82esimo posto dello scorso anno al 77esimo Un risultato di cui il sindaco Clemente Mastella si dice soddisfatto Ma non si accontenta e rilancia la battaglia per la costruzione del depuratore cittadino Siamo i primi in campagna Voglio ricordarvi che l'anno scorso era prima Avellino E abbiamo superato Avellino Cioè in questo incalzare Dopodiché bisogna registrare alcune cose E andare avanti in maniera determinata Devo dire la verità Fino a quando non c'è il depuratore a Benevento La qualità della vita diventa complicata Ho visto la settimana scorsa Il presidente De Luca e l'assessore Arramo Il vicepresidente Bonavitacola Per spingere in questa direzione Recuperare gli altri 10 milioni che restano E avviare le procedure che già sono in corso Ma avviarle in maniera più celere Un risultato che per il primo cittadino Risponde con i fatti alle accuse Mosse negli ultimi giorni dal Partito Democratico Penso a quando sono arrivato Alla città con l'idea loro In cui ci stavano gru sgangherate Che stavano davanti a monumenti migliori alla città Tipo il Duomo Quaggiù Se penso al depuratore che manca Se penso alla qualità dell'aria Se penso a una città che era all'epoca Credo di qualche sindaco Prima di Pietrantoni Una città che era legata al dato Al senso artistico Quasi tutti i teatri chiusi Ma se questo è Insomma Mi auguro quando io non farò più il sindaco Che la gente scelga Ma tutti meno che questi Insomma Sarebbe un disastro Una cosa drammatica per la città Rissa tra stranieri davanti alla mensa dei poveri Furti, danneggiamenti d'auto Non c'è pace per il Rione Carmine a Salerno Ancora degrado a Rione Carmine di Salerno Proprio davanti alla mensa dei poveri Dove due stranieri si sono picchiati Per cause da chiarire Probabilmente futili motivi Il tutto ripreso in un video girato Da una famiglia spaventata Che ritrae la violenza Episodi che si ripetono E si sommano ai furti d'auto E ai danneggiamenti Gli ultimi casi proprio nella notte Tra sabato e domenica Quando uno straniero ha danneggiato Sei vetture nei pressi del viadotto Dell'autostrada Prima di ferirsi gravemente Per sfuggire ai carabinieri È ricoverato in rianimazione All'ospedale Ruggi d'Aragona I cittadini chiedono più sicurezza Non c'è sorveglianza Specialmente in queste zone qui Sotto il ponte dell'autostrada Manca, a me proprio adesso dicevo Ci vuole una telecamera Il 6 ottobre dell'anno scorso Mi hanno rubato l'appunto là Il tragitto che ho fatto Ho notato molte macchine danneggiate Servirebbe secondo lei Un intervento magari Con delle telecamere O delle pattuglie in più Sicuramente andrebbe fatto I residenti lanciano un appello urgente A istituzioni e forze dell'ordine Ci sono stati furti di auto Tentativi di furti di auto L'ultimo caso, questo danneggiamento È venerdì 6 notte A via Cervantes Hanno svaliggiato 6 garage Rompendo le macchine dentro E rubando tutto quello che potevano rubare Abbiamo chiesto un incontro al questore In cui faremo presente la situazione E in cui chiederemo veramente Di posizionare telecamere Che possono garantire una copertura Veramente H24 della zona E adesso parliamo di alta specialità Di sanità dei pazienti anticoagulati Andiamo a scoprire tutte le terapie Salvavita ma soprattutto l'eccellenza Che c'è al Monaldi di Napoli Vediamo Il centro di monitoraggio Dei pazienti anticoagulati Dell'ospedale Monaldi di Napoli È sempre di più la realtà di eccellenza Pronta a nuove sfide Attivo da oltre 30 anni È punto di riferimento Per 1.400 pazienti In trattamento con farmaci Anticoagulanti orali Terapia considerata salvavita Nel trattamento delle patologie Tromboeboliche E in particolare con protesi o patologie Delle valvole del cuore Nell'infarto del miocardio E nella trombosi venosa profonda Oggi il primo convegno organizzato Insieme all'Associazione Pazienti Anticoagulati Monaldi Ha un numero cospicuo di pazienti Noi ci auguriamo che questa attività Presente presso i Monaldi Da quasi 40 anni E istituito tanti anni orsono Dal professore Cotrufo Possa continuare ad esistere E ad essere sostenuto Anche a livello regionale Ci sono oltre 40 anni Che abbiamo un ambulatorio dedicato E' nato come ambulatorio dedicato All'anticoagulazione Quindi ai pazienti cardiochirurgici Portatori di protesi meccaniche Oltre ai pazienti anticoagulati Per patologie cardiache Abbiamo una serie di pazienti Che fanno anticoagulazione Pazienti con trombosi venosa Pazienti con embolia polmonare Quindi diciamo che l'ambulatorio Si è molto ampliato Oggi è un ambulatorio Che conta oltre 1.400 pazienti Che vengono quotidianamente E si riferiscono alla nostra struttura E per la cardiochirurgia Devo dire che è sempre stato Un fiore all'occhiello Perché ci permette di avere Un monitoraggio assiduo Continuo e preciso Dell'anticoagulazione Dei nostri pazienti Ed ora andiamo ad Ariano Urpino Dove il Vescovo Don Sergio Milillo Come Papa Francesco a Roma Ha pranzato con i poveri E i giovani Nella giornata dedicata Alle persone maggiormente bisognose Hanno sfornato pasti Per persone sole in difficoltà In un clima di grande accoglienza Gioia ed entusiasmo Eccola la grande cucina Dell'Istituto Alberghiero De Gruttola Di Ariano Urpino Con il Vescovo Sergio Milillo Insieme agli studenti e docenti Nel corso della preparazione Del pranzo dei poveri Sotto il nostro sguardo pastorale Umano, sociale La necessità di stare accanto Alle persone che vivono in difficoltà Non tanto per assisterli Quanto per creare condizioni Che poi anche loro Possano avere una dignità Un loro posto Una loro direi collocazione Nella vita sociale E quindi ecclesiale E poi perché nel povero Evangelicamente Noi diamo la figura di Gesù Sono i giovani ad accompagnare Gli anziani al pranzo solidale Iniziativa organizzata Nei minimi dettagli Grazie al grande sostegno Della Caritas Aprire gli occhi Sulla realtà che ci circonda Non fare come gli struzzi Mettere la testa sotto la sabbia Rendersi conto Delle esigenze reali Delle persone E scoprire che in realtà Fondamentalmente Siamo tutti poveri Perché abbiamo tutti quanti Bisogno di fratelli e sorelle Che ci incoraggiano Lunga il cammino E noi come Caritas di Cesana Abbiamo proprio questa intenzione Di tenere accesa Questa luce Sulle realtà che hanno bisogno Del nostro intervento Del nostro sostegno Non soltanto in prestazioni Ma in qualcosa Che si trasformi in cura Sono stati mille i bambini In piazza del plebiscito A Napoli Per la giornata Dedicata ai diritti Dell'infanzia Una torcia come quella olimpica Simbolo della pace Con la quale nell'antica Grecia Si interrompevano le guerre Per dire no A ogni forma di violenza E conflitto Circa mille bambini Si sono riuniti In piazza plebiscito A Napoli Per partecipare All'iniziativa promossa Da insegnanti Genitori e alunni Delle scuole napoletane Dalla parte dei bambini E di Focus Fondazione Quartieri Spagnoli In occasione Della giornata Internazionale Dei diritti Dell'infanzia La torcia sarà accesa Per tre giorni Per chiedere Il cessate il fuoco E il rispetto Del diritto internazionale Umanitario Per garantire Sempre e ovunque Una protezione speciale Ai più piccoli È bello vedere Che il coro Il canto Di questa piazza Parta veramente Dai bambini E dalle bambine Solitamente Siamo noi adulti Quando invece Sono davvero loro A parlare I bambini E le bambine Il messaggio Arriva più forte Più diretto E sicuramente Più vero Più sentito Importante Che gli adulti Diano un esempio Da seguire Per i bambini Contro ogni forma Di violenza In questo momento Sono violati Nel mondo Molti diritti Riguardanti I bambini La Maria Montessori Diceva che I bambini Imparano di più Nell'imitare Nell'avere Degli esempi Noi vogliamo essere Un esempio Per tutti i bambini Del mondo Questa giornata Sicuramente È proprio l'emblema Di quello che noi Cerchiamo di fare Tutti i giorni A scuola Come insegnanti E educatori E ragionare Su determinate Questioni Sin da piccoli È qualcosa Che li fa crescere Come degli adulti Con un pensiero critico Da parte mia È davvero tutto Grazie a Michele Orciolo in regia E buon proseguimento Su 8 Channel TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.